Nei prossimi anni cambierà molto il modo in cui faremo le cose, perché? Perché saranno gli oggetti e non più soltanto i nostri computer, i nostri telefoni ad essere collegati in rete. Volete avere un'anticipazione di come questo succederà? Ecco, guardate Violet e poi ne parliamo. Un franco bollo sulla tazza del latte o su una cartolina da spedire agli amici e il vostro computer saprà sempre a che messaggio quell'oggetto è associato. Customizzare questi microchip è semplicissimo. Passateli sopra lo specchio fino a quando non saranno riconosciuti dal medesimo e poi andate sul sito internet di Violet e associatevi all'azione che più desiderate. Potete aggiungere quante funzioni vi è utile e disporle nell'ordine che volete. Usate la vostra immaginazione per creare nuovi utilizzi. Registrate l'indirizzo dei destinatari delle vostre cartoline. Trasferite i dati all'agenda personale o alla rubrica su file Excel. Connettete la vostra tazza del caffè con l'account di Facebook e magari permettete ai vostri figli di guardare i loro cartoni preferiti con un semplice oggetto sopra lo specchio. Questa applicazione è come un ponte fra il nostro computer o i nostri dispositivi portatili e Twitter, la televisione, i sensori, quello che vogliamo dire agli amici, quello che vogliamo far dire o far fare agli oggetti che avranno su questi francobolli. Francobolli, specchio, sono un po' il segnale del passato, è un'epoca di transizione nel futuro, tutte queste funzioni saranno in un microchip contenuto dentro gli oggetti. Però Violet è il primo oggetto della sua generazione, una generazione che è quella che connoterà il nostro futuro di oggetti intelligenti e collegati in rete.